Musica Questa sera io la dedico a tutta l'Irpinia, a tutti 420.000, mi sembra che sono gli abitanti, quindi questa vittoria è per loro. Musica Vedendo oggi quasi 3.000 tifosi, veramente è sembrato di giocare in casa, quindi il merito che abbia raggiunto questa salvezza è anche loro. Musica 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 Musica